18 reti stagionali, però non c'è molto da esultare perché è arrivata questa sconfitta Leonardo. Esatto, se fosse servito a portare a casa punti sarebbe stato un gol importante, però non è servito quindi peccato. La partita Leo, primo tempo più che equilibrato, anzi forse anche meglio il Pescara nel secondo un po' troppo rinunciatari? Ma sì, credo il primo tempo comunque sia stato interpretato bene, il vantaggio è stato più che meritato, poi l'episodio a rigore è un po' dubbio del primo e nel secondo tempo credo che la partita sia stata giocata un po' da parte di entrambe le squadre, c'era un po' di ritmi bassi diciamo e poi la decisa è un episodio. Nel secondo tempo ti abbiamo visto in alcuni tratti di gara con l'Ascoli che per me è anche un po' isolato in avanti, ma Mancuso preferisce giocare con il 4-3-3, con il 4-4-2, con il 4-3-1-2, come ti trovi meglio? Ma non c'è, non c'è una preferenza, dove vengo chiamato in causa cerco di dare il meglio, penso che in questo campionato abbiamo provato quasi tutti i moduli e in un modo o nell'altro è andata bene, in alcuni casi meno bene in altri, con tutti i moduli. È chiaro Leo che i cinque attaccanti alla fine era un po' la situazione di emergenza per cercare di riprendere il risultato, però perché secondo te questo Pescara, quando dà la sensazione di voler spingere, ci riesce bene? Perché per gran parte della partita attende troppo? Ma non saprei rispondere a questa domanda, perché la partita comunque è fatta di momenti e non si può sempre spingere sull'acceleratore, ci sono momenti in cui riesci a farlo e devi essere bravo, secondo me, a sfruttare le occasioni che ti capitano, perché poi appunto gli episodi alla fine, come è successo oggi, ti possono condannare. Leonardo, però il rendimento tra le gare esterne e le gare casalinghe è abbastanza evidente, soprattutto nelle ultime quattro partite lontano dall'Adriatico avete sempre perso, però l'atteggiamento che avete in casa non riuscite sempre a riproporlo in trasferta? Sì, beh, i numeri in questa situazione parlano abbastanza chiaro, nell'ultimo periodo soprattutto non si è riusciti, come hai detto tu, a riportare, diciamo, ad ottenere gli stessi risultati in casa che fuori, però, ripeto, il campionato è molto di alti e bassi di tutte le squadre, quindi credo che sia normale. Mi piacerebbe chiudere guardando all'anticipo di venerdì con il Perugia, è un, non dico match point, ma comunque un match delicatissimo in chiave playoff. Sì, perché è abbastanza uno scontro irretto ed è chiaro che far bene in quella partita ti garantisce, diciamo, sono punti che servono per piazzarsi il meglio possibile nella griglia.